ok ci siamo ciao ciao piacere giorgio già un piacere mio io vengo da venezia ti ho visto su tiktok ti ho portato un po di ore un po di gioielli ereditati e posso ho ereditato anche delle monete di mio nonno che era un collezionista ok mi ha dato che sono queste monete pesos 50 pezzi sono anche rare soltante eh si le facevo a collezionista non so quanto valgano sinceramente queste no io abbiamo un po di oro ok ci siamo anche qui questo rigido si monete togliamo le dalle bustine tanto leggere adesso che da un po di anni appunto che le collezionavano un po di cose guarda non applico neanche il mio test infallibile perché già si vede subito che queste qui devono pesare 41,6 grammi totali di oro 21,6 carati 22 carati 41,6 guarda quanto pesano 23 virgola 43 ecco come è possibile che il peso da 50 possa pesare praticamente la metà c'è un palestrano mi hanno tutte le annusa senti l'odore un po di ferro un po quindi questa no questo sì quello non è non è né oro né argento questo qui è un metallo con un peso specifico allora le dimensioni sono anche bene o male uguali a quelle reali perché perché loro hanno puntato nel farlo delle stesse dimensioni ma non giocando sul peso ovviamente i metalli hanno tutti i pesi specifici diversi l'oro ha un peso questo metallo ne ha un altro quindi se noi facciamo la moneta della stessa dimensione di quella dell'oro non possono pesare alla stessa maniera è fisica quindi questo è il peso 51 grammi e 74 allora lì del 18 carati ha il 1915 euro pagamento istantaneo con bonifico carta d'entità tessera sanitaria non si può fare i contanti perché siamo sopra il limite dell'antiriciclaggio e conto e pagamento volevo chiederti ma è possibile tipo a posti di avere soldi o bonifico avere diciamo uno sconto equivalente al valore per un orologio volevo un orologio si volevo prendere un orologio un rolex adesso non ho idea di modello specifico qui ho un wimbledon 41 mm 2022 mai indossato completo di scatola garanzia tutto quanto del 2022 io di questo richiedo 16 mila e 5 è nuovo è uscito l'anno scorso dal concessionario e l'ho messo in cassaforte riprendo l'oro portaggiamo ritorno nessun problema tanto ripeso la valutazione anche quindi fai quello che vuoi va bene ti ringrazio grazie a te grazie mille stavi bene ciao 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 ciao